Buona giornata amici di Fano TV, oggi è lunedì 6 febbraio 2023, bentrovati alla rassegna stampa. Iniziamo insieme la giornata, iniziamo anche questa settimana, una settimana di carnevale, il carnevale di Fano ha impazzato ieri, ha avuto un buon successo, ne parleremo dopo leggendo i giornali, gli articoli che si riferiscono a questo grande evento che insomma si evidenzia per tutta la regione Marche essendo un portabandiera della sua promozione, ma come sempre cominciamo con l'almanacco del giorno. Ed ecco il santo, il santo è San Paolo Michi e compagni, sono diversi. San Paolo Michi, chi era San Paolo Michi? San Paolo Michi era un giapponese che fu uno dei primi a essere convertito dai gesuiti che evangelizzarono anche quel lontano paese d'Oriente. Siamo nel XVI secolo. Fu uno, dicevo, dei primi convertiti al cristianesimo e purtroppo morì durante una persecuzione che fu intentata dallo Shogun Toikosama. Morì sulla croce, trafitto da due lance incrociate insieme ai suoi compagni. Ecco perché la Chiesa Cattolica venera Paolo Michi ponendolo sugli altari appunto come santo. Le previsioni del tempo, le previsioni del tempo ci indicano che ormai siamo in pieno inverno. Sulle Marche sarà infatti pieno inverno con forti venti da est e nord-est, nubi irregolari con locali circoscritti e venti di Nevischio o di Grupael. I venti sulle coste spireranno da una direzione di est-nord-est nell'interno con una tensione media da oriente, da est e le temperature si aggireranno tra i 4 e 6 gradi. E quindi fa piuttosto freddo e piuttosto le temperature caleranno ancora nel corso della giornata e anche nei prossimi giorni a causa di una perturbazione da venti gelidi che provengono da nord. Ed ora apriamo il giornale, apriamo il giornale Corriere Adriatico sulla pagina di Fano per parlare di carnevale. Eccolo qua il titolo di apertura. In 10.000 staccano il biglietto, buona la prima del carnevale, musica e maschere a valanga di dolci. Vince il fascino dei grandi carri allegorici. E al tempo stesso apriamo anche il resto del Carlino per vedere la pagina di Fano e come il giornale dà un'idea di quello che è accaduto ieri. Fano ritrova il suo carnevale, siamo 10.000. Ed è una coincidenza significativa l'incipite dei due articoli che si assomigliano in maniera quasi che uno avesse copiato dall'altro. Ovviamente questo non era possibile perché ognuno poi ha agito nella sua redazione, ma è singolare il fatto che tutti e due iniziano quasi con le stesse parole. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, buona la prima, dice il resto del Carlino. Il Corriere Adriatico dice carnevale, bene la prima. Insomma, i giudizi hanno coinciso entrambi i giornali. Vediamo qui anche le foto significative pubblicate dal resto del Carlino. Qui abbiamo il momento del getto e qua la folla, circa 10.000 persone, poco meno di 10.000 persone paganti. Queste, poi ce ne sono tante altre che erano nel percorso, pensate, solo 200 erano gli operatori addetti alla sicurezza. E poi ovviamente c'erano i residenti, c'era qualcuno che è rimasto dentro il percorso fin dal mattino, non c'erano gli operatori, insomma probabilmente qualche migliaio di persone in più c'era ugualmente. E vediamo qua anche gli ospiti della prima sfilata dei carri, Rossella Brescia con gli amici di RDS e poi qua alcuni carri della sfilata. A proposito dei carri, poi sentiremo anche il giudizio sulla qualità degli stessi. Dobbiamo dire che i maestri carristi hanno veramente fatto il massimo per quanto riguarda la loro arte, sono stati veramente pregevoli all'altezza della grande tradizione carrista del Carnevale di Fano, solo che se avessero avuto qualche soldino in più probabilmente avrebbero potuto guarnire i carri magari con una maggiore completezza, insomma sono stati evidenziati diversi vuoti sui carri, ma questo non è certo colpa dei maestri carristi i quali hanno veramente espresso il tema che era stato loro assegnato, quello dell'arte, in maniera veramente artistica, così dobbiamo dire. Vediamo ora ancora il Corriere Adriatico, Carnevale dicevo bene la prima, freddo ma cielo clemente, poco meno di 10.000 persone paganti presenti alla grande sfilata, sold out sui palchi e sulle tribune. Ieri il pubblico ha ritrovato, dopo due anni di ripieghi legati alla pandemia, l'euforia legata alla manifestazione fanese, euforia che raggiunge veramente l'apice e il massimo nel momento in cui c'è la sfilata del getto. Ed il getto è stato abbastanza copioso nella giornata di ieri, il debutto di questa nuova ditta fugliese, la dolciar, che ha fatto la sua comparsa al Carnevale di Fano. E il Carnevale, dicevo, ha ritrovato la sua giusta espressione nella sfilata dei carri, ma anche nelle mascherate, quelle che hanno introdotto il carro che le seguiva. Ebbene anche le mascherate, con i loro costumi, con il loro brio, con i loro movimenti, hanno veramente impreziosito la sfilata dei carri. E dobbiamo dire che la presenza delle autorità a livello regionale è bene a reso merito del valore di questa manifestazione. Infatti il corteo è stato aperto dal presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli. C'era anche l'onorevole Antonio Baldelli, il sindaco di Fano Massimo Seri, l'assessore agli eventi Etienne Lucarelli e ovviamente una buona rappresentanza del direttivo della Carnevalesca preseduto da Maria Flora Gian Marioli. E quindi tutta la manifestazione si è svolta con brio e non si sono svolti incidenti. Questo è una cosa molto importante. Vediamo le altre notizie. Da una parte si parla di carnevale, quindi di un momento di gioia, e dall'altra pagina si parla di un momento di dolore. Si parla infatti di cimiteri. Blindato il cimitero di Ferretto, non c'è un loculo disponibile. Fratelli d'Italia raccoglie la protesta dei residenti. Il comune è indifferente, non va meglio in altri camposanti. Ebbene è al completo il cimitero di Ferretto e non è che negli altri cimiteri rurali la situazione sia tanto diversa. E questo è il quadro che ritrae un comunicato di Fratelli d'Italia, che dà voce al malcontento delle famiglie desiderose di far riposare le salme dei propri cari defunti nel luogo in cui sono nati, nel territorio in cui sono nati, invece o devono aspettare che un loculo si liberi, oppure devono trasferirla in un altro cimitero. Ebbene avere un luogo di residenza significa radicare ancora di più la propria famiglia al territorio e quando uno è costretto a farlo in un'altra parte è un po' di sé che si distacca, che va in via, che si disperde, dobbiamo dire. Ed ora passiamo anche alle altre località, a terre roveresche, dove la burocrazia sembra procrastinare la soluzione di un problema. C'è la palestra e la scuola primaria, che è al freddo perché si è rotta la caldaia, mensa e primaria palestra al gelo da 20 giorni. C'è una dichiarazione del sindaco Antonio Sebastianelli che evidenzia come si tratta della caldaia che riguarda anche la mensa fuori uso dal 20 gennaio, ormai molto vecchia, da oltre 20 anni, non può più essere riparata e deve essere sostituita. Ci vogliono 10.000 euro, sembra che la questione economica non sia quella trascendentale, ma ci vuole riuscire a eseguire l'intervento con somma urgenza e qui la burocrazia purtroppo ci mette lo zampino. A San Lorenzo in campo invece c'è un'accelerazione per quanto riguarda il dissesto del territorio, il recupero del dissesto del territorio. Infatti per le frane di Mirabello e San Vito parte l'operazione contro il dissesto ed è la giunta dell'Onti che investe 900.000 euro è riuscita ad avere questo finanziamento dallo Stato con il quale interviene per ripristinare la sicurezza idrogeologica sul territorio. 900.000 euro ammonto all'investimento che permetterà di andare a risolvere annose criticità, dice l'articolo pubblicato dal Corriere Adriatico. Siamo riusciti ad ottenere l'ennesimo finanziamento molto importante ha detto dell'Onti che ci permette di andare a intervenire in alcuni punti del territorio. Risolveremo definitivamente due problematiche molto importanti come le frane di Mirabello e San Vito oltre a realizzare interventi minori ma ugualmente rilevanti che presentano movimenti franosi ed erosioni fluviali che stanno creando anche questi disagi a molti residenti appunto del comune. E passiamo a Senigallia. A Senigallia un altro problema che interessa un cimitero. Questa volta non si tratta di carenza di loculi ma si tratta di manutenzione. Infatti un pino è caduto su alcune tombe, erano tombe ebraiche e ha devastato non solo le tombe ma anche un muretto di recensione. Pino secolare crolla al cimitero, si abbatte sulle tombe ebraiche danni al Camposanto delle grazie ma per fortuna nessun ferito. Continua l'emergenza alberi in città che sono stati scossi violentemente dai fortunali del novembre dell'anno scorso e questa volta crolla un pino monumentale, danneggiate alcune tombe al cimitero maggiore delle grazie e nessun ferito, così come abbiamo detto, si trovava nella parte ebraica dove ha colpito le lapidi a terra, ha poi abbattuto il muretto che divide dal resto del cimitero finendo con l'affronda tra le altre tombe e ovviamente ora le famiglie lamentano lo stato di incuria non solo del cimitero delle grazie ma anche degli altri cimiteri del territorio ed è un problema. Fanno per esempio a 7-8 cimiteri da curare non solo il cimitero dell'Olivo, non solo il cimitero centrale ma anche diversi cimiteri rurali che sono importanti, come dicevo prima, per le famiglie che risiedono nel territorio. Vediamo qualche notizia di Pesaro pubblicata sul resto del Carlino dove si parla anche qui di dissesto del territorio, in modo particolare del Foglia. Guardate la fotografia, il Foglia sembra irriconoscibile, un'ondata di piena sta dilagando, sta proprio forzando lateralmente sugli argini e il volume del fiume è aumentato considerevolmente. Foglia a rischio di piena, fondi dalla Regione, ora tocca al Comune predisporre il progetto al più presto. Lo ha richiesto l'assessore all'ambiente, l'assessore regionale Stefano Aguzzi che ha invitato il Comune a procedere celermente accorciando i tempi, soprattutto dopo la recente esondazione che ha provocato danni anche al territorio vicino al casello dell'A14. Quindi ora aspetta il Comune abbattere i tempi per concludere l'iter burocratico. I soldi ci sono, i progetti si stanno compiendo e quindi bisogna intervenire per raggiungere prima possibile all'esecuzione dei lavori con la gara d'appalto. Miralfiore senza la recinzione, l'Oasi protetta non può riaprire. Belloni, l'assessore, è in attesa dei lavori del Consorzio di Bonifica sul Foglio. E vediamo qui l'assessore Belloni, è uno degli esemplari dell'avifauna più bella che popolano il nostro territorio tra stagni, fiumi, parchi. Insomma, sono punti di sosta della fauna migratoria molto molto importanti. Ex Bramante, sembrava che l'ex Bramante potesse diventare una nuova università cittadina. Invece la proposta incontra i primi ostacoli. Ex Bramante, primo no alla università. Chiediamo al MIUR, non ci fermiamo. Ebbene è l'amministratore delegato del LINC, una università privata, che incassa lo stop della conferenza dei rettori. La conferenza dei rettori avrebbe dovuto esprimere un suo parere sull'accoglimento della domanda che l'università LINC aveva fatto per aprire a Pesaro due facoltà, una di medicina e chirurgia e quell'altra di scienze della formazione primaria. Sembra però che questa proposta non abbia incontrato l'assenso appunto della conferenza dei rettori ed ora c'è la possibilità di procedere ma con cautela per quanto riguarda il Ministero dell'Università e Ricerca che potrebbe sovvertire appunto questo no della conferenza dei rettori. Insomma, le ultime speranze ci sono ancora perché Pesaro abbia ancora questa nuova opportunità. Tenta di rubare l'Atletic ma è costretto alla fuga. Improvvido questo ladro che ha fatto scattare il sistema di vigilanza tenta di rubare all'interno dell'Atlantic Club una delle più note storiche palestre di Pesaro ma il suono dell'allarme lo costringe alla fuga. Di più le telecamere lo hanno sorpreso mentre cercava di rubare nei locali alla ricerca di soldi e oggetti di valore ma la sua immagine è stata ripresa dai filmati e ora le immagini potranno agevolare le forze dell'ordine per l'individuazione del ladro per ricercarlo. Il tentativo di furto della palestra è successo intorno alle 6.15 quando è scattato l'allarme di sicurezza alla Vigilar. E a proposito della Vigilar diamo un'occhiata anche alle notizie di sport pubblicate oggi dai giornali e vediamo come la Vigilar, la squadra di volley appunto che rappresenta Fano ha un livello molto importante vediamo un attimo di trovare l'articolo se riesco a ritrovarlo eccolo qua la Vigilar concede un set a Brugherio e poi la chiude un bel risultato per quanto riguarda i fanesi che sono andati in quelle di Monza lontano a vincere e a prendere tre punti ai danni del Brugherio Fano mantiene ancora la testa della classifica ma deve fare i conti con l'infortunio alla caviglia di Gozzo uscito all'inizio del secondo set comunque il risultato non desta alcun rilievo perché Fano vince per 3 a 1 contro il Brugherio e mantiene saldamente la testa della classifica e per quanto riguarda invece le squadre di calcio vediamo che per quanto riguarda la Vis ha destato una soddisfazione il pareggio ottenuto con il San Donato però ora si pensa subito al derby con il Rimini mancano 13 punti per la salvezza e l'apporto dei nostri tifosi può essere determinante ha dichiarato il difensore Tonucci per quanto riguarda invece il Fano Calcio bella la vittoria che ha ottenuto nei confronti del Porto d'Ascoli Fano una vittoria cercata il bomber Broso dice entrambi i gol contro il Porto d'Ascoli sono frutto del lavoro settimanale ricordiamo che il Granata si sono imposti per 2 a 1 ora siamo in risalita ma a guai a perdere di vista la realtà che adesso si chiama Roma City ebbene la Roma è sempre una trasferta difficile per quanto riguarda il Granata ricordiamo la partita che non è andata molto bene con il Trastevere ora abbiamo Roma City un altro appuntamento importante che vede il Granata difendere la loro posizione e continuare la risalita verso le parti alte della classifica vediamo anche qualche altro titolo di sport Fossombrone un'ora in dieci ma è salvo la gara con l'Urbino si è conclusa in perfetta parità 0 a 0 l'Urbino attacca tanto ma non concretizza il derby è senza reti mentre invece la Vigor la Vigor Senigallia fa scintille anzi fa meraviglie partita fatta di intensità contro il Pineto e la Vigor si impone per 1 a 0 un fantagol di Cariota stende il Pineto metà del secondo tempo in dieci ma la squadra regge ora la capolista è a meno 6 dunque un risultato importante e vediamo ora qualche notizia pubblicata dal resto del Carlino leggiamo la prima pagina la sintesi delle notizie pubblicate all'interno vediamo che per quanto riguarda la pagina di Pesaro si parla molto del Carnevale di Fano ecco il richiamo in prima pagina bentornato Carnevale in 10.000 si ritrovano per il rito del getto buona la prima per la tradizionale sfilata dei carri alecati la madrina Rossella Brescia siete pazzi quanto noi ha dichiarato la intrattenitrice di questa seguitissima trasmissione radiofonica e poi vediamo ancora alcuni richiami che riguardano Pesaro la carica dei 200 alla cena di Sant'Antonio che si è svolta a Villa Fastigi ladro in palestra a caccia di soldi ma l'allarme lo mette in fuga lo mette in fuga è appunto l'episodio di cronaca di cui abbiamo parlato per quanto riguarda invece la provincia di Ancona vediamo un fatto di cronaca una ragazza ubriaca aggredisce un medico del 118 e scatta la denuncia e poi è arrestato a Iesi per una eroina per una dose di eroina nascosta nel barattolo della Nutella un 54enne nei guai e poi un lutto addio al ristoratore Franco Nordio a Falconara signorini si ricandida a sindaco aspetto suggerimenti si infuoca la querelle la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni mentre ad Ascoli Piceno e a Fermo purtroppo dobbiamo riferire di un lutto una strage in autostrada sospendete i cantieri una famiglia distrutta nell'incidente di un nuovo incidente in autostrada la richiesta di Acquaroli e Salvini convoca l'Aspi e le regioni subito più sicurezza ebbene Acquaroli questa volta si è rivolto direttamente al governo per cercare di ottenere più sicurezza sull'A14 dove purtroppo si è verificato un altro terribile e drammatico incidente a Porto Sant'Elpidio invece si parla del festival di Sanremo Fantasarremo si riparte puntiamo a 3 milioni di iscritti questa è un'iniziativa che è partita quasi per scherzo invece ha dilagato in maniera veramente esuberante su tutto il territorio e ora punta a 3 milioni di iscritti a Macerata quegli esami impossibili troppe richieste liste d'attesa chiuse e si parla di sanità i tempi di attesa sono sempre un problema che la regione si trova di fronte mentre a Civitanova un uomo da inescandescente davanti alla discoteca è stato denunciato ha visto dopo il post terremoto le casette degli sfollati alle giovani coppie quelle rimaste vuote e ancora purtroppo qui rimane il problema abitativo la strage in A14 la strage in A14 a un nuovo terribile incidente ebbene il governo il governo è stato coinvolto in modo particolare anche l'assessore alle infrastrutture Salvini il ministro sarebbe pronto a coinvolgere anche i governatori di Abruzzo e Marche i prefetti e l'ANAS ebbene il presidente della regione Acquaroli dice stopa i cantieri fino a quando non saranno in sicurezza e non si può lavorare per poi mettere a rischio il traffico che contemporaneamente scorre nell'arteria la terribile strage è consumatasi sabato sull'autostrada A14 all'interno della galleria Castello di Grottamare ha scosso veramente il palazzo e ha motivato appunto gli amministratori a cercare di fare il possibile di rimediare a questa situazione perché lasciare le cose così vuol dire porre un serio rischio a tutto il traffico che percorre quell'arteria quel tratto di strada la nostra famiglia ora è distrutta operato il piccolo sopravvissuto ebbene questa è un'altra tragedia quella che è capitata ad Andrea Silvestrone 49 anni campione di tennis paraolimpico che è deceduto insieme ai due figlioletti in tenera età nel corso appunto del brutto incidente tre le vittime in autostrada si è salvato un altro ragazzo insomma la situazione è veramente grave e fa pensare fa riflettere vediamo ancora quello che si parla di quello di cui si parla nella pagina di Pesaro nuovo ospedale la maggioranza in pressing a proda in consiglio comunale una mozione impegni disattesi la giunta vigili queste incertezze della regione fanno fuggire i medici ebbene la regione ha veramente intenzione di dare alla città di Pesaro un nuovo ospedale ebbene l'interrogativo si pone perché da quant'è che si parla del nuovo ospedale prima dell'ospedale di Muraglia poi dell'ospedale unico poi dell'ospedale di Pesaro insomma si è parlato tanto sono tantissimi anni in cui nei giornali viene rilevata questa notizia questa prospettiva questo progetto che però non viene mai alla luce negli ambienti di centrosinistra malgrado le rassicurazioni giunte nelle ultime ore dall'assessore regionale Baldelli si nutre ben più di un dubbio in proposito dubbi che la maggioranza al governo della città ha voluto mettere nero su bianco in una mozione che sarà portata in discussione in consiglio comunale e molto probabilmente quando arriverà il dibattito sarà un dibattito veramente acceso per quanto riguarda la situazione e poi parliamo dei punti di prelievo in via Comandino Baiocchi annuncia a giorni la riapertura ebbene il consigliere regionale di Fratelli d'Italia durante la pandemia locali utilizzati come sede USCA ha detto sarà riattivato a giorni il punto prelievi esterni di via Comandino a Pesaro a dare la notizia è stato Nicola Baiocchi il quale ha definito il ripristino un segno di attenzione per i residenti che ho seguito attentamente ha detto il consigliere siamo a pochi giorni dalla riattivazione del punto prelievi esterni ho seguito con grande attenzione tutta la situazione visto che nell'interesse della popolazione ha fatto il suo dovere a questo punto vediamo anche la carica dei 200 alla cena di Sant'Antonio si parla dell'articolo che è stato richiamato in prima pagina sul resto del Carlino è una grande partecipazione che si è avuta a Villa Fastigi è un evento questo che si ripete di un anno in anno ebbene questa volta con maggiore soddisfazione nella storica roccaforte del Partito Democratico molta l'affluenza per il tradizionale appuntamento che è stato sospeso durante la pandemia ecco per quanto ecco che dopo due anni insomma quando le cose si sospendono che poi andavano bene e poi si riprendono c'è una grande partecipazione e un grande entusiasmo ebbene a questo punto possiamo terminare la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per l'ascolto e vi do come sempre appuntamento alle 7 di domani mattina grazie a risentirci a grazie a** a a a pa a Grazie a tutti.